Parliamo di Venissa, la vigna murata che è recuperata dalla famiglia di Bisoli insieme al comune di Venezia sull'isola di Marzorbo, che però in realtà è nata, possiamo dire, da un giardino privato su quella di Torcello, è così? Sì, è nato, diciamo, da appunto questa curiosità che un giorno il signor Bisoli è venuto a fare una gita a Torcello e ha visto questo vignetto in questo giardino e l'aveva colpito e ha chiesto così se poteva entrare. Ci siamo conosciuti, si è innamorato del posto un po' e perciò mi ha chiesto se potevamo collaborare. A me l'idea è piaciuta anche perché veniva recuperata praticamente e veniva anche un po' ricoltivata questo tipo di uva che stava sparendo, gli ho dato queste viti, gli ho detto che le poteva coltivare e cercare anche di ampliare questa sua attività. Lui è rimasto molto colpito appunto da questo vignetto in mezzo alle statue che io ottenevo perché lo trovavo molto… per me era decorativo, per lui era invece una scoperta che sinceramente, lui penso non credeva ci fossero ancora dei vitigni così vecchi e abbastanza grandi da poter partire a produrre questo Venisa. Gianluca Bisol, Venisa è un progetto di impresa che va al di là dell'impresa stessa, ci racconti perché? Siamo calati in quest'isola della Venezia nativa, ormai sono dieci anni, e abbiamo cercato di entrare con un piede morbido in un territorio che ha già dei suoi equilibri, equilibri molto delicati, siamo in una delle tre isole che rappresentano più di altre, ma comunque anche con un corollario di altre isole più piccole, questa natività di Venezia, perché 4-500 anni prima dell'attuale Venezia qui c'è stato il primo insediamento umano dei veneziani. In quest'isola, quando siamo arrivati, grazie al ritrovamento di questo vitigno autoctono veneziano, che è la Dorona, ritrovato in un giardino a Torcello, quindi di fronte alla più antica basilica di Venezia, abbiamo poi deciso di ripiantarlo, e nel ripiantarlo abbiamo trovato questo luogo perfetto per questo progetto, perché ha sempre ospitato un vigneto da oltre mille anni, ma un vigneto che negli ultimi decenni era stato popolato da vitigni internazionali, internazionali. Abbiamo proprio deciso quindi di togliere tutti i vitigni internazionali che avevano soppiantato i vitigni locali e di ripiantare al 100% questo vitigno autoctono, la Dorona, ma in questi due ettari di questa tenuta è stata da parte nostra una decisione non immediata, ma dopo un paio di ragionamenti, di non fare solo vigneto, ma farne solo un ettaro di vigneto sui due ettari e l'altro ettaro aprirlo a un utilizzo più legato alla popolazione residente e quindi un ettaro di vigna e l'altro ettaro suddiviso tra orti, frutteto e peschiera per l'allevamento dei pesci e poi naturalmente gli edifici adibiti a camere e a ristoranti di altissima qualità. Ma quello che abbiamo voluto fare è anche aprire addirittura un nuovo cancello in questa tenuta, prima c'erano solo due cancelli a nord della tenuta, abbiamo richiesto e ottenuto la possibilità di aprirne un altro ancora più collegato all'isola di Burano perché è proprio di fronte al ponte in legno che collega le due bellissime isole e in questi orti abbiamo coinvolto gli anziani di Burano, proprio abbiamo fatto un accordo con l'associazione degli anziani e questi anziani hanno scelto tra di loro 10 anziani che si sono suddivisi 3.000 metri di terreno che abbiamo affidato loro gratuitamente e nei quali continuano la cultura e la conoscenza della coltivazione degli orti e quindi dagli carciofi ai pomodori, agli piselli e tutto quello che caratterizza l'orticoltura locale e che ha avuto un grande ruolo nel passato e che però rischiava negli ultimi anni di venire meno. Gli anziani lavorano in questi orti e l'unica clausola che abbiamo chiesto è di poter coinvolgere anche i bambini delle scuole elementari affinché rinasca in quest'isola la consapevolezza dell'eccezionalità di queste terre che sono terre composte da limo e argilla per una buona metà portata dai fiumi nei secoli perché queste isole sono vicinissime alla foce dei fiumi che fino al 1700 portavano oltre che acqua dolce anche molto terreno nella laguna e che poi dopo il 1700 il Doge ha dirottato direttamente in mare per evitare che riempissero letteralmente di terra la laguna e quindi ne cambiassero la fisionomia. E poi abbiamo recuperato i frutteti e anche la peschiera per l'allevamento del pesce e qui ogni anno gli anziani continuano a rinnovare questa tradizione anche diventano fornitori del nostro ristorante, la merce che producono viene pagata, il resto che non serve al ristorante viene da loro portato a casa e diffuso nell'isola di Burano e coinvolgono i ragazzi delle scuole quindi c'è una rivitalizzazione di questa cultura e di questa tradizione e di economia anche direi agricola che qui trova la sua culla ideale, infatti in questi due ettari uno trova il vigneto, trova gli orti, trova il frutteto, trova la peschiera dove si alleva il pesce e di conseguenza diventa un luogo dove si può coltivare, riscoprire e valorizzare questa tradizione e questa economia del passato che ultimamente, negli ultimi decenni, stava per essere completamente abbandonata. Un progetto quindi che va ben al di là dell'aspetto imprenditoriale diventa un progetto di impresa etica e sociale, un valore di cui oggi più che mai le imprese del vino che funzionano sono le prime portatrici nel nostro paese. L'impresa vitivinicola è un'impresa che di per sé ha già un ruolo sociale, ha un ruolo di gestione del territorio che normalmente è demandato allo Stato, invece negli ambienti viticoli guardate la bellezza delle colline che ci sono nelle zone di Valdobiadene, di Conegliano, guardiamo la bellezza di un'isola popolata da un vigneto, è una gestione del territorio e quindi ha già di per sé, naturalmente l'impresa vitivinicola ha un'inclinazione verso un ruolo sociale, quindi gestione del paesaggio. In questo caso abbiamo avuto un ruolo sociale anche nella gestione della valorizzazione della cultura locale e dell'agricoltura locale, non in senso stretto della vigna ma anche appunto degli orti e il coinvolgimento della popolazione anche locale per valorizzare e per ricreare la consapevolezza di questa importante nicchia di mercato che è rappresentata dai prodotti enogastronomici di alta qualità e che diventano un'ulteriore bandiera, un'ulteriore emblema per un territorio.